Ciao a tutti, in questo video voglio cercare di spiegare come riconoscere i narcisisti e come si comportano quindi i narcisisti. È abbastanza facile riconoscere perché hanno dei comportamenti stereotipati, quindi dobbiamo tenere presente che ci sono vari tipi di narcisisti, sono gli stronici, gli narcisisti perversi, che sono quelli più pericolosi di fatto. E comunque, in generale, il primo approccio del narcisista è quello del love bombing, cioè del bombardamento d'amore, danno attenzioni, cercano di insinuarsi nella vita della persona, hanno delle buone capacità, soprattutto gli streonici, di entrare in contatto con la parte emotiva, quindi riescono a soddisfare molto le esigenze emotive, ma anche le esigenze logico-razionali. Hanno la capacità naturale di sedurre, proprio perché hanno purtroppo naturalmente la capacità di mantenere il distacco del risultato, ma non come nel senso positivo, ma nel senso negativo. Se è vero il verso, è vero anche l'inverso, perché proprio hanno il serbatoio dell'amore completamente bloccato e quindi bloccato sugli altri e quindi non avendo la capacità, la possibilità di amare, necessariamente non hanno, come dire, problemi a essere distaccati. e comunque in questa fase di love bombing, di presenza, di attenzioni, riescono anche magari a far vivere anche l'abbandono, se riescono a cogliere che la persona distaccarse un pochettino, ritornare, hanno una buona, naturale capacità di coinvolgere. E finita questa fase, in cui si rendono conto di aver coinvolto la persona, passano alla seconda fase, che è sempre la stessa, è quella di svilire la persona. Questa persona qua inizia a non andare più bene. Se tu sei coinvolto con un narcisista, a un certo punto ti dirà che c'è qualcosa che non va di te, che come ti comporti non gli piace, che i tuoi amici soprattutto non gli piacciono. E quindi la seconda fase è quella di tentare di isolare la persona, di tenerla distaccata da tutti i suoi amici, tagliare i ponti, in modo tale da diventare l'unico riferimento. Ed entra sempre di più nella tua vita, perché si propone come unica soluzione a ciò che tu, alle tue mancanze fondamentalmente. E quindi la seconda fase è quella del svilimento e del condizionamento. Il condizionamento diventa sempre più forte, al punto tale che ti costruisce una gabbia attorno, ti impedisce di uscirne fuori. Questa gabbia che ti costruisce attorno è fatta da abbandono, è fatta da rifiuti, è fatta da assenzi di colpa, da disistima. Ecco, un'altra caratteristica del narcisista è che cerca di abbassare la stima in te stessa, anziché aumentarla, cerca di svilirti, di abbassarti la stima. E questa è la seconda fase. E' questa purtroppo, in questa fase, le persone si agganciano sempre di più. Di qui vengono messe in atto strategie di comunicazione manipolativa, ricatti di ogni natura, di ogni tipo, insomma. E se la persona cede, se la persona si lascia condizionare, il finale dipende un po' dal tipo di narcisista. Il narcisista prima è perverso, diciamo, tende alla distruzione del soggetto di desiderio, cioè tende a portarlo al degrado, insomma, e quindi al ricovero in psichiatria fondamentalmente, oppure proprio alla distruzione, diciamo, mentale, per cui riduce l'altra persona a una larva fondamentalmente, che si trova senza più capacità di agire, senza più capacità di autonomia. E invece, diciamo, gli streonici, oppure narcisisti di livello, a dire, un narcisismo un pelo più basso, tendono al condizionamento, tendono ad avere il controllo dell'altra persona. Ecco, bisogna non arrivare a questa terza fase, bisogna tirarsi fuori prima, bisogna riconoscere dall'inizio. Perché nel momento in cui c'è il love bombing, che è un'esagerazione, anche in certi casi un'adulazione, lì devi riuscire a mettere in atto già subito delle strategie. Provare, ad esempio, tu ad allontanarti, a fare qualche, diciamo, per capire se veramente si tratta di un narcisista, o se invece è proprio una persona che è coinvolta con te e quindi si comporta in un certo modo. Il narcisista, nel momento in cui ti allontani, non ce la fa, non resiste, tende subito a mettere in atto delle manipolazioni. E quindi la comunicazione manipolativa, che fa leva su un ricatto, sui sensi di colpa, è quella che nel momento in cui tu fai qualcosa, si allontana. Poi un'altra cosa che puoi fare è dargli dei falsi indizi, diciamo, no? Perché poi lui si aggancia, o lei, perché anche le donne sono narcisiste, si aggancia sul ricatto, sul tentativo di ricattarti in qualche modo. Quindi dargli dei falsi bersagli. In modo tale che poi, nel momento in cui ti allontani, se noti subito che ti ricatta, ma tanto su qualcosa che a te non interessa, perché gli hai dato un falso indizio, e allora capisci subito che ha a che fare con un narcisista e quindi non ti devi coinvolgere per non arrivare alla seconda fase, tantomeno alla terza, che è quella più pericolosa. Ecco, queste sono indicazioni di massima per poter riconoscere e contrastare un narcisista. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose. Che a partire dai 30.000 iscritti, quindi ti sollecito, diciamo così, e ti esorto, iscriviti al canale, estrarò 10 corsi di comunicazione completa con me, di seduzione, ma anche gestione delle emozioni, che potrei scegliere se fare o direttamente di persona, o a seconda delle distanze tramite video. Quindi iscriviti al canale, avrai la possibilità di partecipare a questa estrazione. La seconda cosa è che ti ricordo che venerdì 20 gennaio 2017 a Torino terrò un corso, un seminario, dalle 20.45, dal titolo come coinvolgere e come farsi amare gestendo le emozioni, le emozioni nostre e le emozioni altrui. Quindi se vuoi partecipare il riferimento è il 333 15 11 703. Per questo video è tutto, ciao!